Nonostante noi sia utilizzata una norma che non prevedeva e non prevede la sospensiva ma eventualmente in caso di ricorso come in questo caso solo il risarcimento del danno per chi fa ricorso noi siamo fermi quindi vuol dire che il problema non sono le norme in Italia ma l'interpretazione. Meno di 48 ore è d'altare la sentenza per definire la questione dell'aggiudicazione dei lavori sul Ponte Vecchio il grande malato in continua inesorabile sofferenza. In qualsiasi caso vada a finire quello che proprio fa arrabbiare l'amministrazione comunale è una giustizia amministrativa che non tiene in considerazione la reale situazione drammatica in cui versa la struttura palladiana. La cosa importante è che comunque ci sia certezza sul come ripartire e questa certezza ormai non dipende più da noi nel senso che le scelte che ha fatto la commissione di gara sono state appellate e quindi adesso qualcuno ci deve dire se sono secondo legge oppure no ma anche se non fossero state sbagliate ci deve dire in tempi relativamente veloci come dobbiamo procedere. Tutto questo però non sarebbe previsto perché ripeto noi utilizziamo una procedura che non prevede la sospensiva. Però c'è stata? Eh ho capito ma queste sono le contraddizioni di questo paese perché la legge dice che ci sono degli interessi più alti dell'interesse del privato ad avere eventualmente ragioni non contenzioso con il comune. In questo caso l'interesse più alto è aggiustare, ristrutturare il ponte che è un bene vincolato tutelato dalla Costituzione italiana. Dobbiamo prendere atto perché viviamo in uno stato di diritto e quindi bisogna accettare le scelte che fanno i giudici. Chi ora devono stabilire se dare ragione alla Vardanega di Possagno prima vincitrice della gara poi estromessa per vizi o al comune che ha già firmato con la Inco di Pergine e Valsugana per l'inizio lavori sul ponte. Comunque vada si parla di un ennesimo ritardo nell'inizio del restauro. Non è che l'amministrazione faccia il tifo per un'azienda invece che per un'altra. Noi facciamo il tifo per il restauro del ponte. Quindi fateci restaurare questo ponte. Abbiamo fatto approvare un progetto, recuperato i fondi. Se siamo fermi non dipende certo per volontà dell'amministrazione oggi ma per il fatto che abbiamo un sistema di giustizia amministrativa che è troppo faraginoso. Obiettivamente c'è preoccupazione da parte vostra? C'è preoccupazione per il ponte?